Posso? Sì, sì, vai, è camera tua. Grazie. Puoi toglierla la mascherina, eh? Giusto, giusto. Cioè, sono la tua voce, non c'è nessuno da... No, è che non ci avevo pensato, hai ragione, hai ragione. Vai, vai, sono pronto. Sgamata chiede, come mai hai scelto di aprire il canale? Allora, come ho già detto in un altro video che ho fatto due settimane fa, credo, proprio che ho sentito dal mio vecchio canale di YouTube, io ho sempre avuto una grande passione per YouTube, mi è sempre piaciuto condividere quello che penso, le mie idee, e quindi per l'ennesima volta, perché più volte ci ho provato, ma volta proprio da piccolo, ho aperto questo canale, cioè, in realtà, il canale l'avevo da tantissimo tempo, perché lo usavo per usufruire di YouTube in quanto spettatore. Mentre durante la pandemia, durante il Covid, cioè il primo lockdown, ho detto, ma perché proviamo a fare qualcosa di particolare, magari canzonando un po' il Covid? E quindi feci il primo video che, se non erro, era proprio tipo leak su Immuni App per... come se fosse un videogioco. E da lì ho iniziato a fare la prima cosa riguardo il Covid. Detto coronavirus per un'ora e cose del genere. Dopodiché ho fatto una serie di video, quelli in cui contavo fino agli YouTuber col numero, e poi, piano piano, il canale è diventato un semplice contenitore per le mie idee. Diciamo che dietro questo canale, l'idea di base che c'è dietro, che c'era all'inizio, anzi, era di non impegnarmi troppo, non perché non volessi mettere impegno in quello che faccio, ma per il fatto che in passato mi sono un sacco impegnato su YouTube, mi sono trovato più e più volte, praticamente, a... come dire, non ricevere i risultati, ed era brutto. Ricordo, a volte stavo tipo lì un giorno intero a scrivere un copione, a buttare giù idee, poi lo pubblicavo 100 visualizzazioni. Quindi il mio pensiero è stato, a questo punto, preferisco fare poche visualizzazioni, ma con poco impegno, piuttosto che poco con tanto impegno. Però la fortuna, in realtà, ha voluto che... perché per me il fortuna è il mio attuale risultato, che praticamente quello che faccio piace, e quindi sto iniziando a metterci anche impegno, perché mi sto impegnando un sacco per alcuni tipi di video, nonostante me ne renda conto che sono sempre quelli meno apprezzati. Sigliozzo. Quindi, perché ho aperto il canale, principalmente per condividere con le persone le mie idee, e per farmi, diciamo, per avere un mezzo in cui poterla attuare, e quindi dare proprio vita a quello che volevo. Mario Jump chiede, da dove nasce il tuo umorismo? Questa domanda è molto interessante, perché è una domanda che sento spesso fare alle persone. Partiamo dal presupposto che io mi nepputo una persona simpatica. Io da che ho memoria di me, cioè, nel senso non di quando ero piccolo, ma tipo liceo, mi sono sempre reputato una persona che sa far ridere, e con un umorismo, sinceramente, un po' più alto della norma, non detto con molta poca modestia e molta sboronaggine, mi sento di essere simpatico. E quindi, se proprio devo dirti da dove nasce, non saprei dirtelo, sicuramente c'è tantissima cultura di internet, perché io praticamente uso internet da quando sono piccolo, avevo circa dieci anni, proprio il 2005, infatti ho scoperto YouTube molto presto, e c'è sicuramente tanta cultura di meme, soprattutto americani, mi sono fatto tutte le wave di pagine italiane, quindi il primo Black Humor, quando si poteva fare. Quindi molto viene da questo. Poi sicuramente una grandissima influenza l'ha avuta Macho, nella mia vita, probabilmente l'unico comico italiano che mi è davvero piaciuto per tanto, tanto tempo. Una parte forse viene anche da Luca e Paolo, in Camera Caffè, quella comicità no sense, perché comunque è molto no sense con Luca e Paolo, mentre attualmente sicuramente la mia più grande influenza, e potete notarlo anche dalla mia voce, grazie, grazie, è utilissimo, è Lundini. Lundini per me attualmente è un genio, e mi sta un sacco influenzando, ma più che influenzando è che mi sposerà bene, con tantissimi suoi modi di fare, i suoi sketch, e quindi mi rendo conto che è qualcosa a me molto vicino, ed è facile in questo modo influenzarmi. Lorenzo ti chiede, chi sei? Probabilmente la risposta più stupida e facile, e magari aspettata sarebbe Goku, non lo sai, ma non vi risponderò così, anche se in parte già l'ho fatto. Sono Livio. Ragù o Carbonara? Chiedo scusa a tutti, i napoletani, però a me ragazzi il ragù non fa impazzire, cioè mi piace, ma se devo dirvi che mi sveglio la domenica mattina con la voglia di ragù, no. Sono molto team Carbonara, e quindi Carbonara, per quanto sia scontato, ragazzi, a me la Carbonara piace, penso si veda, e quindi Carbonara. Mano di Luce chiede, che scuola hai frequentato? Questo è un argomento un po' tosto, perché ho fatto lo scientifico, in realtà ho fatto, vabbè, da piccolo ho fatto le sue ore, perché come al liceo ho fatto lo scientifico, a casa un nuovo, e dopo ho fatto l'università, ho fatto... Il percorso universitario che ho fatto è stato molto molto stupido, molto vuoto, cioè non ho fatto molto all'università, non sono un amante dello studio classico, infatti attualmente ho finito un corso di grafica 3D, che è quello che mi piace più fare, è una cosa direttamente pratica, che ti insegni quello che devi fare, e non fare ore e ore di lezioni, su cose che poi non ti servono a un cazzo nella vita, perché facevo l'orientale comunque, già studiavo giapponese, mi piaceva un sacco la cultura giapponese, però tuttora mi piace un sacco, non faceva per me, cioè nel senso appeso di studi, quindi effettivamente, ergo vi prego condividete il video, altrimenti non mangerò mai, no scherzo, però iscrivetevi, anzi non mi direi che iscrivetevi, fatemi sapere se vi siete iscritti, come mai siete iscritti, sono curioso di sapere perché mi seguite, magari farò un video proprio su questa cosa un giorno, perché mi seguite? Sì. Il cavallo donato è una Jojo reference? No ragazzi, pure per questo mi dovete perdonare, io non guardo Jojo, cioè ovvero ho letto Jojo, fino a Diamond Di Sunbreakable, ma vi parlo di tipo dieci anni fa, però a me non piace, cioè nel senso lo trovo molto indifferente, non capisco perché le persone ci trovino qualcosa, di oh mio Dio, Jojo, Jojo, veramente non, cioè, è molto neutro per me, non l'ho mai trovato così, così figo da starci appresso, come ci stanno un po' tutti, quindi non, no, non è una Jojo reference, anzi non so quale dovrebbe essere la Jojo reference di Cavallo Donato, però fatemelo sapere, se lo sapete voi, perché sono curioso, ovviamente, Iago ti chiede, un film, un libro, un album, un fumetto, e un prodotto di animazione da consigliare? un sacco di roba, un sacco di roba, allora, un film, come film vi consiglio vivamente Old Boy, che vi faccia un po', film coreano, ma probabilmente molti di voi lo conosceranno, fa parte di una trilogia spirituale, la trilogia è la vendetta, che io vi consiglio comunque di vedere tutta, perché è molto bella, però penso che Old Boy, sono sicuro che Old Boy sia il migliore dei tre, quindi vi consiglio tantissimo quello, sta su Prime Video, credo, o su Netflix, comunque l'ho visto ultimamente, che è una piattaforma streaming, poi, un album musicale, io purtroppo non ascolto tantissima musica, quindi non saprei consigliare un album musicale, proprio perché a me che sia che grande, cioè mi piace la musica ovviamente, però se dovessi dirvi soglia e ascoltarla, no, quindi non vi saprei consigliare un album di alcun tipo, un libro vi consiglio, anzi, non farlo apposta, l'ho qui con me, ma perché è un libro appresso? Cioè, nel senso, l'hai sempre con te? Sì, è, sempre, Audition, di Ryu Murakami, questa è la versione inglese, perché ha questa copertina bellissima, damn, bro, e non è il Murakami commerciale, quello che ha fatto Norvegia, un Wood, eccetera, che non vi consiglierei mai, prima della vita, non voglio dirvi molto su questo libro, però, effettivamente è un horror, e dopo che l'ho letto, io non sono riuscito a dormire quella notte, e io mi scasso di horror, quindi ve lo consiglio tantissimo, perché è anche una bella storia, molto molto interessante, ma in realtà vi consiglio anche gli altri libri di Murakami, poi, un fumetto, slash manga, ce ne sono tantissimi da consigliare, però vorrei consigliarvi una cosa che non sia, troppo, troppo, commerciale, quindi vi direi, io odio Favolambia, di Scott Young, molto figo, l'ho letto qualche mese fa, sono sei volumi, mi pare, praticamente è questa ragazzina, che resta bloccata in questo mondo delle fiabe, dove non invecchia mai fisicamente, e deve uscirne, però lei inizia a odiare questo mondo, perché non ce la fa più, il mondo inizia a odiare lei, è molto bello, perché è molto colorato, appartiene molto a quella wave colorata, moderna, sullo stile di Rick and Morty, Gravity Falls, quindi, surreale colorato, ve lo consiglio tantissimo, mentre, per quanto riguarda un prodotto d'animazione, vi consiglio a questo punto, un americano, e un giapponese americano, appunto, Gravity Falls, che è su Disney+, spettacolare, e, giapponese, Tatami Galaxy, che trovate su Netflix, sono 12 puntate, più uno special, fantastico, veramente mi ha lasciato una cosa dentro, bella, proprio, Tatami Galaxy, quindi ve lo consiglio tantissimo, se vola, vola perché è super interessante. Challenge ti chiede, quando amplierai i personaggi dell'Allivio Lur? Innanzitutto, ciao Davide, quando amplierai i personaggi? Ragazzi, io vorrei un sacco introdurvi altra gente, però, purtroppo, il, la zona rossa è quello che è, non è che posso vedermi con altre persone, io ho un sacco di idee, di idee scritte, proprio, ho tantissima roba già scritta, già impostata, devo solo girarla, però serve gente, per ora, alla lore, cioè, possiamo definirla lore, ci sono praticamente, che hanno fatto più di un'apparizione, solamente Benny, la mia ragazza, e, e Cristian, mio fratello, poi c'è un'apparizione di Aldo, ma, sono veramente, veramente poche le apparizioni, Alberto pure ha fatto più di un'apparizione, però ecco, vorrei creare un po' più mood, ma non si può, quindi vi accontentate di bevi di odore, però è bello dai ragazzi, che mi ho scoperto che si chiama tipo Grogu, me l'ho spoderato, non ho ancora visto l'ultima puntata, mannaggia, non che importi. Perché l'uomo, ha bisogno di avere, un essere superiore nella propria vita, per poter vivere in pace? Eh, questa, questa domanda ragazzi, è un po', è lunga, è come domanda, è l'ultima hai detto, vero? non l'ho mai detto, guarda è che, non so se posso dirlo, diciamo che, un po' tutti ne hanno bisogno, anche io in passato, ho dovuto, ecco, come dire, cercare, qualcosa, disimile però, non so se non lo vede, basta vim se ti amo qua se ti amo qua